benvenuti sempre in videoripetizioni.com possiamo vedere ora uno dei vantaggi nell'utilizzare il browser google chrome ad esempio supponiamo di voler ricercare sul nostro motore di ricerca google il testo video ripetizioni a caso bene possiamo vedere alcuni dei nostri video possiamo caricare il nostro canale youtube benissimo supponiamo di navigare in internet e di trovare un testo di nostro interesse ad esempio videoripetizioni qualcosa a caso in questo caso per cercarlo su una nuova scheda senza abbandonare questa potremmo aprire e scrivere videoripetizioni giusto? uno dei vantaggi del browser google chrome è che selezionandoci il testo di nostro interesse tenendo spinto il tasto sinistro del mouse trascinandolo qua in alto nella barra del browser e rilasciando automaticamente google chrome ci cerca tramite il motore di ricerca preimpostato quel testo proviamo a fare una prova apriamoci un giornale a caso il messaggero ad esempio monti, constrattare, forze, anti, UE capo dello stato se ad esempio leggendo qualche articolo in internet in qualsiasi pagina di internet siamo interessati a cercare quella parola ad esempio capo dello stato la trasciniamo ed ecco fatto che google ci cercherà proprio la parola capo dello stato questo è uno dei trucchetti diciamo e vantaggi di un browser google chrome quindi ricordiamoci selezioniamo la parola e trasciniamola tenendo premuto il tasto sinistro verso l'alto rilasciando lui ce la cerca in automatico ci vediamo al prossimo video ciao